Ho sempre pensato di non poter andare in montagna, l'ho sempre osservata da lontano, poi un giorno... L'inclusione sociale passa anche per la pratica sportiva che coinvolge la montagna e i sentieri più suggestivi attraverso i quali tutti, ma proprio tutti, possono ammirare un altro abruzzo. E' da un'idea di sport solidale che nasce montagna e senza barriere, il progetto promosso dall'associazione Maiella Sporting Team e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che attraverso l'Ufficio per lo Sport ha selezionato questo progetto tra gli oltre 500 presentati. L'iniziativa amplia il raggio delle attività che l'associazione porta avanti da tempo nel territorio, l'ama dei peligni, utilizzando le joelette, le particolari carrozzelle da fuoristrada a ruota unica, che consentono alle persone a mobilità ridotta, adulti o bambini, anche se totalmente dipendenti, di praticare escursioni con l'aiuto di due o più accompagnatori. Adesso, grazie al sostegno della Presidenza del Consiglio, è stato possibile coinvolgere diversi comuni e associazioni per accogliere queste escursioni, anche in altri territori, nel periodo compreso tra maggio e ottobre, Tufillo, Opi, Arsita, Villa Celiera, Lama dei Peligni, Castel del Monte e Monte Nero Domo, le tappe di questa estate. Aver avuto la possibilità di estendere ad altre comunità il progetto ci rende orgogliosi perché ci permette di regalare esperienze suggestive a più persone, ha sottolineato il Presidente dell'Associazione, Angelo Dulisse. Così si riesce a promuovere la cultura dell'escursionismo condiviso, come pratica sportiva e non come attività assistenziale, accompagnando i diversamente abili in montagna, al fine di renderli partecipi delle emozioni che la natura sa regalare.